E' così con Kangor che dunque non riesce a sfruttare il gioco dalla lunetta e allora dà qualche speranza in più di vittoria alla Dinamo che ha la possibilità di sorpassare nuovamente in questo quarto periodo la menzana. Ovviamente pallone gestito da Travis Diener, neanche a dirlo. Diener che cerca una conclusione incredibile e la mette! Travis Diener sorride dopo il canestro del sorpasso 88-86, fa tutto lui, 33 punti per Diener. La linea del secondo quarto che soltanto una volta Sassari ha battuto Siena qui al Palaestra, oltre 20 anni fa, era una partita di Serie A2. Guardate il canestro pazzesco sull'arresto e la chiusura di Moss precedente di Travis, per poi nell'azione successiva l'ultima.